Ben ritrovati dalla redazione di Flores Multimedia in studio Cesare Martignan. Il traffico si mantiene regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Sull'Aurelia, disagi per lavori di ripristino per circa 3 km tra il km 271 e il km 268 in Carreggiata Nord, tra California ed Onoratico. La ex strada provinciale 70, ora strada statale 330, è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, Massa Carrara, in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Infipili per lavori di messa in sicurezza del viadotto del Turbone, possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginesta Fiorentina in entrambe le direzioni. In conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, ricordiamo l'invito a limitare ogni tipo di spostamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!